Ma sa, dottoressa, il lavoro, la casa... Si calmi, provi di chiudere gli occhi. Immagini di essere in un luogo lontano, dove rigenerare il corpo e la mente. Il tempo è scandito dalla natura. La luce del sole scolpisce la pietra dei borghi, delle cattedrali. Il profumo del mare narra storie antiche. Un sapore che sa di tradizione. Tutta la meraviglia di una terra preziosa è la cura migliore per ritrovarsi se stessi. Dove va? Si porta anche la famiglia. Puglia. Autentica meraviglia.